Sottoposto ad un trattamento carcerario contrario ai principi costituzionali nonché a quelli affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e per questo risarcito dal Ministero dell'Interno. La sentenza del giudice di pace di Salerno è solo una delle testimonianze concrete tese ad evidenziare le pessime condizioni di detenzione del carcere di Forni. La motivazione della condanna riconosce il sovraffollamento della prigione nella quale il detenuto risarcito con 1000 euro era costretto a convivere con altre 7 persone anziché solo 3 come è previsto in base alla grandezza della cella. Nel corso del procedimento giudiziario è stato inoltre dichiarato anche da altri detenuti che non c'è possibilità di lavarsi adeguatamente poiché il bagno è costituito da una tazza e un lavandino contenuti in meno di un metro quadro di cella all'interno della quale non vi è acqua calda ed è permesso fare la doccia solo una volta alla settimana. Nella struttura non esistono corsi donei che possano garantire il reinserimento nel mondo del lavoro. E su questa situazione oggi hanno voluto vederci chiaro tre parlamentari nel corso di due ispezioni diverse. I primi ad entrare nella casa circondariale sono stati questa mattina i senatori uscenti Franco Cardiello ed Enzo Fasano, seguiti subito dopo da una delegazione dei radicali composta da Rita Bernardini e da Donato Salsano. Ci sta una grande professionalità da parte degli operatori che cercano in tutti i modi di attutire gli effetti negativi della struttura che ormai è vedusta e da completamente rigenerare, da rifare. Complessivamente diciamo che il clima è buono perché gli operatori sono effettivamente di grande qualità. Essendo un componente della Commissione Giustizia spesso mi trovo a vigilare sulle carceri italiane, quindi facciamo degli atti ispettivi. Il carcere di Salerno, per tutto quello che può essere un carcere, comunque è una struttura che nonostante un po' di sovraffollamento continua a funzionare bene. È chiaro che i problemi non si risolvano facendo nuovi carceri e non modificando le leggi penali. Il problema è proporzionale, nel senso che vanno depenalizzati dei reati ed eventualmente fatte nuove strutture. In ordine mi è stato chiesto da parte dei detenuti di un atto di clemenza che è la manastia. Da un punto di vista mio personale io sono d'accordo per la manastia così come è stato fatto in passato.